Il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento è privo di qualsiasi fondamento giuridico. Contrariamente a quanto asserito dalla Procura di Agrigento nella conferenza stampa dell'8 marzo 2018, si smentisce fermamente la sussistenza di alcun contesto di opacità ed illeciti amministrativi. Lo dichiara in una nota stampa Luigi Francesco Geraci, patron di iniziative mobiliani, la società che ha realizzato ed è proprietaria del porto turistico Marina di Cala del Sole di Nicata, oggetto di sequestro preventivo da parte della Procura di Agrigento. Geraci aggiunge al contrario, la società ha operato sempre nel pieno rispetto della legge, realizzando esclusivamente a proprie spese, senza alcun contributo pubblico, le opere e le infrastrutture che sono sotto gli occhi di tutti e nella piena fruizione dell'intera collettività. La dimostrazione di quanto è affermato la società Marina di Cala del Sole ha promosso nei confronti dell'amministrazione regionale nelle dovute azioni legali, sia davanti alla giustizia amministrativa che davanti a quella civile, al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di decadenza della concessione demaniale, nonché di ottenere il corretto conteggio dei canoni concessori. Inoltre, risulta del tutto errore all'asserzione secondo cui la società non avrebbe pagato gli ordini di urbanizzazione se solo si considerano le ingenti opere pubbliche che lo si ribadisce, sono state realizzate interamente a cure e spese del titolare della concessione e che devono necessariamente essere scomputate, cioè detratte, nel calcolo di queste somme. Geraci, infine, affronta la questione della concessione demaniale rilasciata alla regione che per la procura è scaduta nel 2014. La concessione demaniale, dice il proprietario di iniziative immobiliari SPA, che regittima la società alla frizione dell'area su cui sorge il porto turistico, non è decaduta in quanto il precedente provvedimento di concessione è stato sostituito dal verbale redatto in una conferenza di servizi che legittima e autorizza in pieno sia la titolarità e la piena disponibilità dell'area demaniale, sia l'ambiamento della chiesa e della piscina. Geraci, attraverso l'assistenza legale dell'avvocato Girona Morubino, annuncia la prossima proposizione di richiesta di riesame davanti al Tribunale di Agrigento con cui si dimostrerà l'illegittimità e l'errorietà del provvedimento di sequestro emesso dal GIP di Agrigento in quanto ha disapplicato in maniera arbitraria e in totale assenza di presupposti il verbale della conferenza di servizi del 12 dicembre 2014 con cui la società era stata espressamente autorizzata alla realizzazione delle opere oggi contestate dalla procura di Agrigento. Dimostreremo il giudizio di aver agito nel pieno rispetto delle norme vigenti e chiederemo il risarcimento dei danni arrecati all'immagine della società, ha concluso Geraci. Resta comunque il fatto che sia Geraci che l'ingegnere Vincenzo Ortega, capo Dipartimento Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Ricata, sono indagati nell'ambito dell'inchiesta sul mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione del porto Marina di Cala del Sole per un totale di circa 7 milioni di euro. A decidere sulla richiesta di invio a giudizio sarà il giudice per udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Alfonso Malato, il prossimo 26 marzo. Nell'inchiesta, come si è appreso, sono indagate complessivamente 22 persone per l'ipotesi di reato di violazione di norme sull'edilizia e occupazione del demario marittimo. Il capo della procura di Agrigento Luigi Patronaggio ha annunciato che è stato nominato un amministratore giudiziario che assicurerà il funzionamento regolare di tutte le attività sane del porto turistico. Secondo il pubblico ministero Alessandra Russo la congestione demariale è scaduta nel 2014, perciò tutte le opere presenti all'interno possono essere considerate abusive.